Vorremmo avvisare la cittadinanza di quanto si sta realizzando sull'Uncomare nelle ore notturne. I cittadini sanno bene che sull'Uncomare e nel portorifugio sono allocati due grossi contenitori per petticoque. Questi contenitori, una volta disarmati, devono essere trasferiti dalle parti del petrochimico. Questo lavoro inizierà a partire da questa notte e comporterà il passaggio di un trasporto eccezionale, cioè di una colonia di automezzi che saranno a scorta di questi contenitori e che sono di notevole dimensioni. Pertanto che cosa significa questo? Che i cittadini dovranno evitare di parcheggiare le loro proprie autovetture lungo il viale Imperatore Federico II di Svevia, quindi sull'Uncomare perché a partire da luna la scatterà il divieto di sosta, luna di notte ovviamente, e quindi diciamo che subito dopo quel divieto di sosta che sarà operativo dovrà passare questo trasporto eccezionale che passerà non solo stanotte ma anche domani notte. Le operazioni sono previste come conclusione entro le 6 di sabato mattina. Pertanto lanciamo un appello di collaborazione ai cittadini affinché questa operazione si possa eseguire in totale sicurezza. Ed ancora bisogna tener conto che siccome si tratta di un trasporto come dicevo prima eccezionale, quindi di notevole dimensioni e di una massa estremamente pesante, sono stati adottati degli accorgimenti a tutela dei tombini e di tutte le condotte fognarie. Quali sono questi accorgimenti? Sono stati apposti su tutti i tombini delle lastre in acciaio che devono evitare un eventuale sprofondamento dei tombini. Ovviamente queste lastre di acciaio sono state imposte all'impresa che deve eseguire questo lavoro di essere nei bordi, devono essere catarifrancenti, devono essere visibili da lontano, è stata apposta idonea segnaletica e devono essere apposte anche delle luci lampeggianti. Ma questo non significa che noi non dobbiamo avvisare i cittadini di fare particolare attenzione a queste lastre. Abbiamo l'imposto a questo proposito un limite di velocità massima di 10 km orari, al fine di poter attraversare le aree in cui esistono queste lastre, cioè da porto rifugio sino alla zona petrolchimico, in totale sicurezza. Pertanto ancora una volta rinnoviamo questo invito ai cittadini di usare la massima prudenza sul lungomare Federico II di Svevia e di collaborare nel senso di togliere le autovetture che ci sono là parcheggiate a partire dall'ora 1 di stanotte, altrimenti incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e quindi in rimozione con verbale.